fratelli bianconeri e non buongiorno a tutti voi te ciapa e se dunque video di oggi per parlare di una cosa abbastanza simpatica almeno dal mio punto di vista dunque qualche giorno fa quando ci fu stata bella ci fu stata vi è piaciuta questa non ve l'aspettavate dice la verità comunque quando ci fu stata la partita Juventus Milan con la vittoria dei rossoneri per 0 a 3 in quel di Torino con una Juventus inesistente non scese in campo della serie gli han detto al Milan facce quello che te pare nel video delle pagellasse come faccio sempre ho preso l'abitudine di fare una piccola analisi della partita ok che continuerò a mantenere cosa succede che in quella brevissima analisi io ho detto che il Milan è una piccola squadra c'è stato qualche utente che se l'è presa ma demon da te non me l'aspettavo definire il Milan una piccola squadra addirittura c'è stata una signora che ringrazio cortesemente davvero di aver espresso un parere così autorevole nei miei confronti la quale signora mi ha dato addirittura del cafone ora io pur ringraziandola del complimento ricevuto devo dire che forse la signora ha sbagliato contesto perché forse voleva dire un'altra parola perché in quel contesto la parola cafone secondo me ha poco a che vedere però ringrazio ripeto la signora per la sua per il suo complimento però non riesco a capire il perché i milanisti se la sono presa perché io ho definito il milan una squadra piccola allora in questo video voglio fare cioè voglio dire una cosa che è questa ma fino a due partite fa il milan scusate se lo chiedo non era a pari punti con la juventus mi par di sì ho sbaglio quindi vuol dire che se la juventus è una squadra piccola come lo è il milan che era a pari punti non è che mi possono venire a dire i milanisti siamo una grande squadra giusto il milan viene a torino fa la sua onesta partita sicuramente gioca meglio della juve sicuramente merita di vincere vince 3 a 0 si incamera tre punti importantissimi in ottica champions poi però cosa succede che la juventus batte prima il sassuolo e poi l'inter il milan ieri sera pareggia in casa contro il cagliari e l'ho vista tutta poteva anche perdere il milan a una partita dalla fine adesso si apre uno scenario inaspettato perché perché già qualcuno e non parlo solo di tifosi juventini ma anche di altre squadre già qualcuno si è lasciato andare a dire la juventus adesso per la champions è favorita io personalmente non ci credo che la juventus è favorita è il milan che sta davanti per me è ancora favorito il milan però facciamo insieme a voi un come posso chiamarlo un percorso che ci porti a capire a tutti noi me compreso che cosa può succedere nell'ultima partita di campionato allora innegabile che il milan va a bergamo vince discorso chiuso per tutti tutto quello che abbiamo detto fino a ieri ciao però ci sono altri scenari come dico inaspettati rispetto a prima allora partiamo quindi da un presupposto mercoledì fra giorni due c'è la finale di coppa italia si gioca al mapei stadium a sassuolo in quel di sassuolo dove si affrontano juventus e atalanta per la vittoria della coppa italia ora questa partita è innegabile che favorisca il milan perché perché è una partita in cui le due squadre si daranno battaglia sprecheranno energie e quindi magari non so se saranno così brave da saperle integrare subito visto che tre giorni dopo o quattro giorni dopo ci sarà la partita cruciale della stagione perché la partita cruciale per la juventus non è quella con l'atalanta di finale di coppa italia ma è quella domenica col bologna per il milan della juventus e dell'atalanta non gliene può fregar di meno tranne il fatto che come dico possono sprecare energie ma per il resto la partita importante è quella che il milan dovrà giocare a bergamo con l'atalanta però attenzione udite udite allora gli scenari quali sono gli scenari sono che il milan e l'atalanta pareggiano in tutta tranquillità la juventus pareggia a bologna il milan va in champions no per non dire la juventus perde a bologna possibilità seconda possibilità il milan vince a bergamo e se ne strafrega di quello che fa la juventus poi ci sono quelle pro juventus e quindi c'è una cosa molto importante da tenere presente allora la juventus domenica non avrà vita facile a bologna perché non sono assolutamente d'accordo con chi già oggi dice che il bologna farà la vittima sacrificale mi dispiace non ci credo ciò non toglie però che l'atalanta è seconda in classifica e arrivare seconda in classifica nel campionato sapete cosa vuol dire vuol dire credo prendere 5 milioni di euro in più che ha una squadra come l'atalanta fanno carne e sangue quindi io non credo assolutamente che il milan avrà una partitella l'atalanta secondo me farà di tutto per arrivare seconda io di questo sono convintissimo quindi ripeto in questa ultima partita si sono aperti degli scenari che io non avrei mai pensato perché perché quando ieri c'è stato fiorentina napoli per me il discorso champions era già finito era finito era finito perché il napoli avendo vinto passava davanti alla juventus non avevo neanche messo lontanamente in preventivo il fatto che il milan ieri sera pareggiasse in casa col cagliari assolutamente ma assolutamente per me il discorso era già finito e invece guarda guarda che cosa ti succede il cagliari obbliga il milan al pareggio la juventus torna incredibilmente in gioco e adesso questa settimana signori miei sarà carne e sangue e sì perché vi dico allora il punto di vista di demon allora il mio punto di vista è a me della coppa italia mi frega niente io devo andare a vincere a bologna e sperare che l'atalanta faccia il suo dovere col milan perché secondo me l'atalanta è superiore come squadra al milan e può vincere o anche pareggiare quindi io personalmente a me lascio ben volentieri ma ben volentieri lascio la coppa italia l'atalanta e vado in champions però stamattina nella nostra chat pensavo anche un'altra cosa e cioè voglio mettere in preventivo la parte più brutta il milan vince a bergamo e il discorso finisce indipendentemente da quello che fa la juventus è chiaro che è uno scenario che si può realizzare perché la juventus ovviamente non deve pensare al milan la juventus deve vincere a bologna e già questa non sarà una cosa facilissima non sarà facilissima per cui amici miei sono d'accordo con l'amico tiziano crudeli milanista sfegatato il quale dice per la partita con l'atalanta sono molto ma molto preoccupato caro tiziano tu questo video non lo vedrai però un pensiero a te lo faccio perché sei un personaggio simpatico mi dai mi fai fare sempre delle grasse risate tutte le volte che ti vedo sei uno dei pochi personaggi sportivi anti juventini che però mi è simpatico quindi tiziano crudeli assolutamente numero uno al contrario di filippo tramontana che è un personaggio che non sopporto assolutamente perché io credo che nel mondo del calcio ci vorrebbe un pochino più di umiltà ma soprattutto ci vorrebbe un pochino più di sportività alcuni personaggi non è che ne hanno molto anche tra youtuber parlo sia ben chiaro in generale indipendentemente da questo però amici miei cosa volete che vi dica cominciamo a pregare cominciamo a pregare perché io francamente ve lo dico da juventino innamorato quale sono io farei molta ma molta molta fatica a dire a digerire l'europa league mi dispiace ma io l'ho sempre etichettata la coppetta dei disperati e rimango di quest'idea per me l'europa league è la coppetta dei disperati è la coppetta dei perdenti quelli che arrivano quarti quinti no quelli che arrivano quinti più perdenti di così non si può essere se dovessimo conquistare l'europa league va bene guarderemo anche le partite dell'europa league ma chiaramente ripeto sarei molto ma molto molto deluso oggi come oggi soprattutto che sono tornato in gioco quando mai me lo sarei aspettato quindi forza juve speriamo che pirlo non commetta sciocchezze e vediamo di come si dice in gergo fino alla fine ciao a tutti